Il giocattolo del barletta calcio sul campo, quello che aveva permesso nella stagione 2021-2022 di festeggiare il triplete in eccellenza e nella scorsa annata di toccare per diverse settimane la vetta del campionato di serie D e di giocare la semifinale playoff, si è rotto. Sono bastate 24 ore per certificare le crepe che le prime 14 giornate di campionato nel girone H avevano già lasciato intravedere, il pocherissimo rifilato dal Martina Alputtilli a Diaz e compagni e il ritratto del presente Biancorosso, una squadra lontana dagli avversari di vertice che nemmeno il più ottimista dei tifosi potrebbe definire in grado di far meglio dell'anno scorso, intento che era stato invece proclamato a più riprese all'alba della stagione dalla dirigenza. Il capitombolo casalingo con il Martina ha seguito di due settimane la sconfitta, meno netta nel punteggio, allora terminò 0-2 ma altrettanto palese per differenza con l'avversario, patita al Puttilli per mano della capolista team Altamura in un filotto negativo inaugurato con il KO per 4-3 nel derby di Andrea. Il pareggio di Casarano, impreziosito dalle parate di Provitolo, è stato probabilmente a questo punto esito della reazione di pancia di un gruppo che non poteva restare indifferente alle dichiarazioni rese in conferenza stampa dall'ormai ex allenatore Ciro Ginestra. Chi si è messo in testa che questa squadra può vincere il campionato per me dice cagate, enormi cagate, questa squadra non può vincere il campionato, questa squadra può giocare contro tutti per vincere ma può perdere contro tutti, come è successo a Rotonda con la Gelbison che spende più di noi, ci sono altre 6-7 squadre che spendono come noi e più di noi, che stanno facendo anche peggio di noi. Lo stesso Ginestra da domenica sera, formalmente non è più sulla panchina bianco-rossa, effetto di dimissioni presentate poche ore dopo il KO con il Martina. Una scelta presa, assicura a chi conosce da vicino il 44enne Campano, dopo aver provato a dare tutto alla causa, andando anche oltre i dissidi con l'ex DS Pavarese, reduce dai soneri in serie, che in estate non era riuscito a raggiungere nemmeno uno degli obiettivi senior fissato dall'allenatore e cercando di dare una quadra a un organico non allestito per giocare con il suo modulo preferito, il 3-5-2. Lascia una rosa con valori da metà classifica a metà classifica, 20 punti dopo 15 giornate, a meno 7 dai play-off e più 6 sul sest'ultimo posto. Difficile per chi aveva gli occhi impregnati di un sano realismo immaginare qualcosa di diverso a inizio stagione. Il malcontento della piazza verso la dirigenza è diffuso e il rapporto con i vertici societari è ai minimi storici, dati di fatto attestati dalle rumorose proteste all'esterno del Puttilli dopo il 2-5 del Martina. Il futuro societario sembra potersi giocare su più tavoli, intanto un passo in avanti nelle comunicazioni è arrivato da Michele Di Benedetto, main sponsor del club che si è detto disponibile attraverso una nota ufficiale a rilevare l'intero pacchetto societario in asse con altri imprenditori barlettani. Interesse che potrebbe evolversi in trattativa in queste ore.